Novità in arrivo dal mondo Renault. Per i businessmen e i professionisti che sceglieranno i modelli Spas, Megane Grand Coupé e Talisman è disponibile da oggi la gamma Executive. Un allestimento particolarmente ricco di contenuti tecnologici pensati per esaltare il piacere di guida e il comfort a bordo. Interne in pelle chiara, cerchi specifici Executive, telaio for control con quattro ruote sterzanti e controllo elettronico delle sospensioni, apertura a mani libere del veicolo e del portabagagli. Questi sono solo alcuni degli elementi che insieme al sistema Multisense rendono l'esperienza a bordo della gamma Executive particolarmente esclusiva.